Finalmente, amore, avrai il tuo bagno nuovo nuovo. Ma sono terrorizzato dall'idea di avere polvere ovunque, macerie dappertutto. Questa volta invece ti sorprenderò con Bagno 48. Bagno 48? Sì, perché in due giorni ristrutturano il tuo vecchio bagno. Fanno il nuovo impianto idraulico certificato. Posano pavimento e rivestimenti, installano box e piatto doccia, sanitari, rubinetterie e tutti gli accessori. Non ci credo. Vieni a vedere. E' vero, hai ragione. Che invenzione. Sono velocissimi. E ma chissà quanto ci costa. Hanno trovato la soluzione giusta per noi. Poi loro utilizzano la formula soddisfatti o rimborsati. Ti sei fatta fare un preventivo? Ma certo. Ho chiamato per informazioni ed è venuto un tecnico di Bagno 48 per un sopralluogo gratuito qui a casa nostra. Abbiamo scelto i materiali, i pavimenti, gli accessori, le rubinetterie e mi ha lasciato un preventivo immediato e non impegnativo. Ma a parte i materiali che ho visto è che sono bellissimi, ma sono anche convenienti. Oh sì! Prezzo fantastico e poi pagamenti su misura, bonus ristrutturazione del 50% e attenzione, 35% di sconto. 35%? Chiamate subito per un preventivo gratuito e senza impegno. Bagno 48. La velocità è il nostro motto. Bagno 48. Ti garantisce la ristrutturazione di un bagno in 48 ore. Con lavori a regola d'arte, fatti da artigiani qualificati. Chiamate per informazioni. Grazie a tutti.